Oggi vediamo una di quelle che è una funzionalità premium di Todoist. Premium vuol dire che bisogna avere la versione a pagamento di Todoist, ma è una funzionalità che io trovo molto utile e molto interessante, quella di poter fare i modelli. A cosa servono i modelli? Può capitare di avere un progetto che va eseguito con dei Todoist che vanno eseguiti con una certa frequenza. Qui ho fatto un esempio, una routine, quindi una serie di Todoist con dei conti, quindi registrare delle spese della banca e delle fatture, che presumibilmente uno potrebbe dover fare ogni inizio mese, insomma ogni mese. Qual è il problema? Ovviamente che io man mano che vado a spuntare Todoist, questi mi scompaiono e quindi non me li ritroverò al mese successivo. Uno può dire sì, facciamoli tutti ricorrenti, sì, è un'opzione diciamo che sicuramente farsi un modello è un po', è una soluzione un po' più pulita e ha dei vantaggi che vedremo appunto in questa lezione. Quindi andiamo a vedere come funziona operativamente. Abbiamo il nostro progetto modello, quindi un progetto, che mi voglio salvare per un uso futuro. Come si fa a salvarlo per un uso futuro? Vado qui sui tre pallini, su azioni progetto e dico esporta come modello. Ribadisco, questa è una funzionalità premium, d'accordo? A questo punto ho due opzioni, uno è esportarlo come file, se io lo faccio mi scarica un file che potrò importare successivamente e l'altro è quello di usare un url. Trovo che l'url sia un filo più comodo, ma diciamo non cambia molto, il file me lo posso perdere, l'url basta che me lo salvi anche sotto forma di preferito il gioco è fatto. Adesso non ci importano le date relative perché i nostri to do non avevano date. Quindi cliccherò esporta come url condivisibile, ho questo url che mi copio negli appunti, d'accordo? Ricordiamoci, l'ho copiato, ctrl c, l'ho già copiato. Ecco, adesso cosa succede? Diciamo, vado avanti a spuntare i miei to do man mano che li faccio per questo mese e posso addirittura andare a eliminare a un certo punto il mio progetto che trovo qua in fondo. Posso proprio eliminarlo, quindi diciamo che questo mese ho spuntato tutti i to do e ho eliminato il progetto. Io però ho salvato, in questo caso l'ho solo diciamo copiato, ovviamente se me lo dovevo tenere per il mese successivo me lo sarei salvato da qualche parte. Il mio link al modello lo incollo nel mio browser e premo l'invio. A questo punto lui mi dice, con inizio mese il template verrà aggiunto, uso questo template. Così facendo lui mi ha ricaricato il progetto, lo troviamo qui in fondo, ci siamo, il progetto con tutti i miei to do all'interno, pronti per essere rifatto. Quindi se io tutti i mesi devo andare a fare questi to do, io il primo del mese mi caricherò il mio progetto, magari per ricordarmi di caricare il mio progetto, metterò quel link che ho copiato all'interno di un to do o dei commenti nel to do per chi ha la versione premium e può fare i commenti. In questa maniera siamo avanti molto spediti. Alcune note sui modelli. La prima è che se io nei modelli metto delle date, per esempio domani, questo lo voglio due giorni, questo lo voglio quattro giorni, questo lo voglio tra quattro giorni, questo lo voglio tra cinque giorni. Ecco qua, se metto delle date, quando vado a esportare il mio modello, posso scegliere se usare le date relative o le date assolute. Solitamente conviene sempre usare le date relative. Che cosa vuol dire date relative? Vuol dire che dato che io ho un to do oggi, domani, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quando io ricaricherò un progetto per il quale, salvandolo, ho spuntato, usa le date relative, lui mi schiafferà dentro i miei to do le spese della banca per il giorno in cui caricherò il mio modello, per il giorno dopo le spese della carta di credito e così via, e saranno relative quelle date al giorno in cui ricaricherò il mio modello. Se invece decido, non so per quale ragione, mi sembra vi siano buoni motivi, ma di non usare le date relative, quindi di esportare il mio urlo, il mio file senza le date relative, quando lo ricaricherò questo to do andrà sempre al 21 luglio 2019. Non so che senso abbia, dato che sarà ovviamente nel futuro. Un'altra nota, l'ultima, se io vado a condividere questo progetto e quindi ad assegnare questi to do a qualcuno, quando ricaricherò il mio progetto, questi verranno automaticamente riassegnati. Però attenzione, questa è una funzione che ultimamente sta subendo un po' di modifiche, quindi non è detto che, mentre voi guardate questo video, sia ancora così. Presumo che, qualora questa funzione non vi fosse più, anche se io ho salvato un modello da un progetto condiviso, lui mi vada a creare un modello non condiviso, quindi mi perde le condivisioni e quindi io me le debba presumibilmente riassegnare a ciascuno. Ecco, questa è una funzionalità molto utile che noi usiamo tanto. Un esempio del nostro utilizzo è, abbiamo tanti corsi di gruppo che partono, che vengono erogati continuamente, quindi abbiamo dei modelli, delle routine di base che carichiamo ogni volta che, diciamo, pubblichiamo un nuovo corso. Perché? Perché appunto ci sono dei to do che devono essere compiuti sempre le stesse, gli stessi compiti. Ecco, per non dimenticarcene noi appunto andiamo a crearci dei modelli che carichiamo alla bisogno. Comunque direi che questo è quanto per quel che riguarda questa importante funzione di modelli, di routine, di template, come la vogliamo chiamare di to do list. Ciao a tutti e alla prossima.